Eccoci qua Daniela, grazie di essere qui in questa intervista per dare la tua testimonianza e raccontare come funziona il percorso di coaching per donne per trasferirsi all'estero. Buongiorno. Buongiorno. Allora Daniela, raccontami un po' come ti sentivi quando ci siamo sentite la prima volta, quando mi hai contattata nella prima chiamata insieme. Che cosa volevi ottenere? Quali erano le cose che non riuscivi a sbloccare da sola? Dunque, mi mancava una visione d'insieme prima di tutto, una visione d'insieme della mia situazione e aggiunto a questo la lucidità di vedere la direzione di dove andare. Questi sono forse i due punti che erano fondamentali in quel momento lì. E poi, vabbè, l'idea di trasferirsi all'estero l'abbiamo esplorata poi assieme, ma è una cosa che ho da moltissimi anni. Ed è stato un recuperare un sogno. Quindi andare alla ricerca mi mancava, mi mancavano gli agganci per riuscire a riaprire quel cassetto dove c'era dentro il sogno. In sostanza, poi è stato quello che stiamo facendo assieme. Mi mancava il coraggio di fare dei passi. Cioè, quello che io sentivo era che, sì, c'era il desiderio, ma mancava il coraggio di muovermi, anche se non avevo una direzione precisa, però avevo questo sogno. Mi mancava il coraggio di fare il primo passo anche solo per esplorare quello che avevo a disposizione, quello che c'era a disposizione dentro di me. E questo è stato proprio messo molto in chiaro nel nostro primo colloquio, che non era ancora il percorso, era semplicemente quel colloquio, non so come lo chiami, non mi ricordo. Sì, quel colloquio esplorativo. Abbiamo proprio messo in chiaro, mi hai aiutato a togliere la nebbia e a fare questo primo passo nella direzione dove voglio andare. Fidarmi di quello che sentivo, perché quello che io ho ricevuto in quella prima esplorazione, in quel primo colloquio, è stata proprio una grandissima fiducia. Ho sentito come un'ondata di fiducia da parte tua verso di me, quella fiducia che io non riuscivo a darmi, di poter fare. Questo è stato, questo è un punto importante. Quello di darmi la possibilità di fare, che era quella, che è stato questo. Sì, sicuramente. E ora come ti senti rispetto alla direzione, alla big picture, alla visione d'insieme? Poi adesso mi hai aggiunto questo grande elemento che effettivamente ha permeato tutte le nostre chiamate, tutte le nostre sessioni, che è la fiducia. Quindi tu hai detto, io ti ho dato fiducia, ma adesso tu questa fiducia la senti in te stessa, la senti parte di te? Sì, è stato come il là, quello che io posso riconoscere in questo momento è che io mi sono accordata, tu mi hai dato il là proprio come nel coro, e io mi sono accordata, non a te, mi sono accordata a me, mi sono messa in armonia con quelli che erano i miei desideri e ho indirizzato i passi verso di là, verso questa direzione, questo grande progetto di trasferimento all'estero, che è il primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo pensiero quando mi addormento adesso e allo stesso tempo c'è tutto il contorno di lavoro, di collaborazione, di pensieri per portarlo alla realizzazione, per portarlo nella realtà, nel viverlo ogni giorno. E come ben sai dalla mia storia, il primo passo è poi ci sono stati, ci sono tanti passi dentro alla realizzazione di un progetto di questo tipo e io faccio un passaggio nel senso che il primo è un trasferimento di 50 chilometri, quindi è il passaggio, un cambio di lavoro, un cambio di casa, un cambio di città nella prospettiva di quel progetto e di quella realizzazione. e questo c'è, ritornando alla fiducia, sento che c'è un sottofondo, non so qual è il tuo contributo e qual è il mio in questa immagine, non lo so, non lo riesco a distinguere, abbiamo collaborato per dissodare il terreno, per arricchirlo, concimarlo, per metterci i semi e la fiducia è quella parte che nutre questo terreno continuamente, che vorrei chiamarlo anche amore, e mi commuovo nel dire questo, perché sento che è amore verso di me, questo nutrire questi semini che stanno germogliando, che stanno mettendo radici, che stanno germogliando, è un insieme, non riesco a distinguere gli elementi, è un insieme di tutto, tutto è permeato, c'è fiducia, c'è amore, e sono degli elementi fondamentali in questo passaggio, perché sono tutte cose rivolte verso di me, anche il decidere, e tu sai quanto è stata repentina la mia decisione di seguire il tuo percorso, perché con il colloquio si è formata l'idea, e alla termine del primo colloquio ho detto sì, ho spento il computer, ho fatto il primo bonifico, cioè... Hai pensato due volte. Sì esatto, non c'era neanche motivo di pensare due volte, ho sentito che era quello di cui io avevo bisogno, che era questa, che fra le altre qualità, cioè hai la qualità di dare la fiducia e dare un ascolto così ricco di elementi, che a me ha permesso, a me ha permesso di germogliare, mi ha permesso di fare quello che ho fatto finora. Ed è... vorrei aggiungere, ieri c'è stato un giorno, è stata una giornata di sconforto, e poi qualcosa ho lavorato, qualcosa ha lavorato per conto suo dentro di me, un po' ci ho lavorato io, e stamattina è come rifiorito tutto quell'entusiasmo, quel... ok, adesso riparto, riparto da zero, sono già partita da zero tante volte, riparto da zero, che non è mai zero, perché c'è la ricchezza di questa, di tutte queste esperienze vissute in questo mese e mezzo con te, ed è stato il... di nuovo fiducia, e di nuovo poi questo germogliare d'amore verso di me. E sono ripartita, nonostante questo momento di sconforto che sia stato ieri, che ci saranno sempre i momenti di sconforto, ci saranno sempre... non sono cose che si escludono, che spariscono, che non esistono più, e che diventano molto, molto più piccole. La maggior parte del tempo che io vivo con me stessa, nella consapevolezza, nella presenza, è un tempo ricco, è un tempo di gioia, è un tempo d'amore, è un tempo di entusiasmo, di esploro, di vivo... vivo la vita con questi occhi di meraviglia, che credo che sia l'obiettivo di tutti. sicuramente è il mio obiettivo, è quello che io voglio vivere. La mia vita la voglio vivere così. Questo incontro con te, e questo percorso, questo percorso di coaching, è stato riportare alla luce la meraviglia, riportare alla luce questa capacità innata di meravigliarmi di qualsiasi cosa, e allo stesso tempo tenere bene lo sguardo, ho imparato a tenere bene lo sguardo fisso al mio obiettivo, lavorare ogni giorno, tutte le mattine, col club delle cinque, alla realizzazione del mio progetto. Bene, questa è la big picture, una visione d'insieme, che dicevi magari che ti mancava all'inizio, no? Sì, questo è sempre ben chiaro dove stai andando. Sì, sì, questo sicuramente è una cosa che ho imparato qui, in questo petto. E c'è qualcosa di, a proposito di quello che hai detto prima, Daniela, ti volevo dire che il coaching è proprio questo, grazie per averlo detto, perché il coaching è proprio accompagnamento, è partnership, si definisce infatti partnership, perché ci sono le due persone che lavorano insieme, no? Quindi tutte e due contribuiscono al cammino dell'altro, perché anche voi siete utili a me, le mie clienti sono utili a me per il mio percorso personale, evolutivo. Per cui quello che dicevi prima è assolutamente vero, che non sei solo tu, non sono solo io, non è il mio aiuto, assolutamente, cioè se non ci fossimo uno o due come elementi, non si andrebbe da nessuna parte, non faremmo un fantastico lavoro come quello che abbiamo fatto insieme. C'è qualcosa, Daniela, di pratico che hai sperimentato in questo percorso, che secondo te ha funzionato, che ha avuto successo per te? Qualcosa di pratico sul quale abbiamo lavorato, che hai sperimentato, che magari ti ha dato appunto questa visione di insieme? Cosa è che identifichi essere un elemento sul quale abbiamo lavorato, che wow, quello sì che ti ha dato un grande risultato? Direi che ci sono più elementi, il fatto di avere una lista da arricchire, che io ho arricchito ogni giorno, le frasi che mi ripeto ogni giorno, dove io mi riconosco sempre di più, e mano a mano che vado avanti si riducono le frasi che mi hai proposto tu e invece si ampliano quelle che sono le mie frasi, che è qualcosa che già usavo, forse con meno chiarezza di come ce l'ho adesso, che erano le mie, le chiamavo le mie frasi salvagente, in realtà adesso non sono più le frasi salvagenti, sono le frasi materassino, nel senso che sulle quali io mi sdraio e mi rilasso all'interno di questo spazio che creo per me. Questo è uno strumento fondamentale, il fatto di alzarmi presto e di fare un'attività fisica che mi dà benessere. Questo è un altro punto al quale non rinuncerei, non rinuncerò più, perché è veramente questo cominciare al mattino molto presto, che subito mi sembrava ostico, mi sembrava che fosse veramente una sfida, poi mi sono resa conto che non è un problema, l'importante è che mi dà una spinta per tutta la giornata e l'importante è gestire la sera, perché non è gestire il mattino, per me il problema era più gestire la sera, capire che io ho bisogno di riposare. Organizzare, no? Organizzare il tempo, sì, esatto, e darmi la quantità di riposo, le ore di riposo di cui ho bisogno, nel rispetto di me. Quindi piuttosto che guardare la TV fino a mezzanotte senza fare assolutamente niente e poi alzarmi al mattino con una stanchezza enorme, questo mi ha dato una carica, veramente questa organizzazione della giornata. E la visione, per quanto riguarda la visione di insieme, credo che siano veramente tanti piccoli tasselli messi assieme. Non riesco a identificare che cos'è stato questo incastro. È come se io avessi avuto tante, io avevo tanti pezzetti di puzzle prima e il colloquio contagiato dal primo colloquio mi ha aiutato a cominciare ad agganciare i vari pezzettini di puzzle e cominciare a creare l'immagine di quello che voglio realizzare. Bellissima immagine, tra l'altro. E questo, tra l'altro, questo è qualcosa che per me è nuovo. Questa immagine, questa attenzione all'immagine, la casa che voglio, il lavoro che voglio, lo spazio che voglio, dove lo voglio, dove voglio andare. Tutte queste immagini più volte al giorno le rinnovo dentro di me e vedo. Questo è il che fanno parte, sono pezzetti dell'obiettivo. Quindi faccio e le nutro e le vivo ed è quella cosa grandissima che è nutrire con amore quello che voglio realizzare, quello che voglio fare, dove voglio andare, quello che io voglio essere. lasciare, permettermi di rivelarmi nella nella mia Deità, in questo splendore che è dentro di me. Permettermi. Noi abbiamo paura, qualcuno dico, non mi ricordo dove l'ho letto, chi sia che dice, noi non abbiamo paura delle difficoltà o dei limiti che abbiamo. Noi abbiamo paura della luce che abbiamo dentro. Assolutamente vero, io sono spaventata qualche volta della mia luce, sono intimorita più che spaventata della mia luce e quando la vedo dico, come mi hanno insegnato a non splendere. brillare troppo, non brillare troppo, il timore delle invidie, di tutte quelle cose là. Bene, ma se io sono il sole, che cosa faccio? Cosa posso fare? o mi brucio, o mi brucio da me, o se no, splendido, punto. Agli altri, la gestione delle loro emozioni, dei loro sentimenti. Chiaro, ognuno ha la responsabilità di fare il proprio lavoro, lavoro interiore. Ti faccio l'ultima domanda, Daniela, per concludere, ti chiedo, cosa consiglieresti ad altre donne che hanno dubbi e non sanno se iniziare un percorso come questo? Cosa le diresti? Un po' quello che abbiamo già detto prima, l'ascolto, l'ascolto verso se stesse, la fiducia verso se stesse e aprirsi alla fiducia verso di te e l'amorevolezza verso se stesse. permettere che emerga questo amore, questa fiducia e lasciare che il loro sogno, i loro sogni, il loro sogno, il proprio sogno ritorni alla superficie, ritorni in superficie, si mostri e osservarlo, semplicemente osservarlo, tutto qua, perché nel momento in cui poi lo osservi chissà, io ho sentito la direzione quando l'ho osservato, quando mi sono permessa di guardarlo e questo avviene grazie a molto al tuo sostegno, è stato possibile grazie al tuo aiuto, al tuo sostegno, che è questo lavorare alla pari, non è un ti insegno, non è neanche un ti spingo per l'amore di Dio. no, no, è un accompagnamento, no? È un sono al tuo fianco e quello che tu non vedi ti aiuta a vedere, io l'ho vissuto così. Bene, bene, ok Daniela, grazie mille per il tuo tempo e per queste tue parole, io sono comunque onorata sempre di lavorare con persone come te, perché come dicevo prima è proprio uno scambio e è un dare per ricevere continuo e fa della mia professione secondo me la professione più bella del mondo. Ti ringrazio e continuiamo con la nostra sessione adesso.